Asparov e poi Ciafarena va a portarsi a casa, il muro di Santi Orduna. La prima giornata, qui riceve Beretta con l'aiuto del nastro e poi il money out di Groser. Problemi in recessione per Dabischiba, poi si stila, Orduna lascia spazio a Dabischiba. Modic, il muro, poi la difesa di Giavorno, che corre Orduna, Groser da fermo e allora mette la freccia e sorpassa Monza. Orduna per Etta, questa volta grappia soltanto la palla, allora tocca ancora Monza, la va poi! Di Vlad, Dabischiba! Le 97 ricezione di Giavorno, Orduna delicatamente apre partita IVA e si mette il proprio. Gran ricezione di Munenbain, Asparov, il muro, la difesa poi di Federici, Orduna per Groser, attacco verso posto 6. Sezione di Bonami, Solene, 3 metri di spirito per Ciafarena! Arriva anche il muro, ancora di Orduna! Fribull per Monta, qualche difficoltà di troppo e poi Groser. Sezione di Giavorno, Corduna va da Dabischiba in pallone, Etto! Alla prossima. Alla prossima! Francesco! Grazie a tutti